Noi siamo sotto media nazionale, su questo non c'è dubbio, perché il lavoro organizzativo per coinvolgere la medicina generale che abbiamo fatto nel mese di febbraio ha richiesto alcuni giorni per il coinvolgimento, l'informazione, la formazione dei medici e così via. L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini chiarisce così l'ultimo monitoraggio diffuso dalla fondazione Gimbe, che mette la Toscana in fondo alla classifica per le vaccinazioni anti-covid degli anziani oltre gli 80 anni. Secondo i dati la regione sarebbe infatti penultima in Italia per percentuale di anziani che hanno ricevuto finora le due dosi, scivolando addirittura all'ultimo posto se si considera soltanto la prima somministrazione. L'assessore Bezzini torna però a sottolineare la forte accelerata sui vaccini agli over 80 prevista in Toscana nei prossimi giorni. Ora tutte le nostre macchine, quelle delle strutture sanitarie, quelle degli ABB e quella della medicina generale sono in funzione, per questo noi possiamo da una parte estendere al massimo la nostra capacità di vaccinazione su tutti i filoni della popolazione coinvolta ed in particolare, lo ripeto, ci impegneremo al massimo affinché ci sia una grande accelerazione per la vaccinazione degli over 80. Nei prossimi 20 giorni tutti gli anziani saranno chiamati dai loro medici di famiglia. La prima somministrazione dovrebbe concludisi intorno al 25 aprile e il richiamo intorno a metà maggio. Grazie. Grazie.